Agli inizi del 2015, eventi di guerra, quanto preoccupano il risparmiatore? Devo dire che certamente c'è una situazione molto delicata, sono tanti i fronti e le notizie da seguire dalla Russia che invade l'Ucraina, speriamo che comunque tutti questi eventi finiscano al più presto, l'ISIS che va a dilagare ed è un fenomeno che non riusciamo a quantificare realmente dove potrà arrivare e quindi ci sono tutta una serie di situazioni anche in Africa che magari se ne parlano di meno, ancora la Siria è sempre collegata all'ISIS e comunque sono tutte situazioni come anche l'attendato che c'è stato in Francia che fanno preoccupare, hanno sempre dato motivo di preoccupazione, per il momento i mercati stanno in una fase positiva un po' perché diciamo si sono a suoi fatti, stanno assorbendo queste cose, però fino a quando? Quindi certamente ci auguriamo che non si vada oltre, che presto si trovi una maggiore tranquillità, stabilità, soprattutto da un punto di vista morale, da un punto di vista civile e che quindi poi anche il mercato possa, da un punto di vista economico, viaggiare secondo l'andamento dell'economia e non guardare e dover guardare a queste situazioni. E quanto invece la situazione della Grecia sta influenzando sull'euro e sull'Europa? Ma in questo momento in modo ancora limitato, un po' perché i giochi sono fatti, un po' perché siamo pronti a tutto, in realtà potrebbe, nessuno ancora può dire come finirà, però in ogni caso diciamo sia la Banca Centrale Europea, tutto quanto quello che è stato fatto in questi anni si è andato a fortificare il sistema bancario, per evitare se un giorno veramente la Grecia fallisse in modo definitivo, nel senso un default assoluto, l'uscita dall'euro, il ritorno alla dracca, questo sarebbe dannoso più che altro soprattutto per i greci, ma oggi io sono convinto che i mercati, l'Europa in generale, il mondo, sia pronta anche ad assorbire un impatto del genere. Ora quale tipo di consiglio possiamo dare al piccolo o medio risparmiatore isolano che può avere bisogno di investire e vuole essere rassicurato? Questi sono avvenimenti particolari che succedono, possono succedere come non possono succedere, sono quegli avvenimenti che per quanto uno li tiene sotto controllo non devono influenzare la costruzione del portafoglio del cliente, che deve seguire le sue esigenze, le sue aspettative, poi di fronte a questi avvenimenti ognuno avrà creato il portafoglio in base al proprio grado di rischio, può subire delle conseguenze, però il cliente non è che deve sostituirsi al trader e quindi in base alla notizia modificare. Di fondo vi sento di consigliare sicuramente di non modificare il proprio profilo per questo.